Beneficenza e divertimento allo stadio Ianniello di Fratta Maggiore per la quarta edizione della manifestazione Un Gol per la Vita, organizzata dall'associazione L'Afra Onlus. Un migliaio di spettatori presenti per la manifestazione sportiva di Beneficenza, oltre 5.000 euro l'incasso devoluto all'associazione Carmine Gallo del Posillipon di Napoli. Nel triangolare si sono affrontate tre squadre rappresentate dall'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord, dai comici di Made in Sud e da una rappresentanza di vecchie glorie del calcio Napoli. Abbiamo organizzato, questa è la quinta volta che partecipiamo a questo evento appunto per dare un contributo per i bambini del Santo Bono che hanno tanto bisogno di queste manifestazioni, quindi noi siamo impegnati molto socialmente con la nostra squadra, anche se partecipiamo a un campionato nazionale con tutti i dottori commercialisti italiani e siamo giunti anche alle fasi finali che si faranno a Dischia il 2 e il 4 di giugno di quest'anno. Sono diversi anni che sposo questa causa perché sono delle iniziative veramente importanti e il va veramente per una causa giusta, cioè quindi aiutare i bambini in difficoltà dei vari ospedali qua di Napoli e insomma della campagna, quindi è un'iniziativa importante e quando si tratta di beneficenza io sono veramente in prima fila, quindi benvengano queste ed altre iniziative come queste. Fa piacere sicuramente partecipare a queste manifestazioni che si occupano del sociale e poi è anche l'occasione per trovare tanti compagni, ex compagni di squadra e tanti personaggi del mondo dello spettacolo. I bambini sono al centro di tutto perché sono il nostro futuro, sono i nostri figli e quando si può fare qualcosa per i ragazzi si deve fare noi il possibile, anche l'impossibile e benvengono queste manifestazioni perché possono dare una mano a tanti ragazzi. Oggi in campo a far ridere, nel senso che facciamo ridere in tv e come vedi facciamo ridere anche in campo, si nota il mappazzone, diciamo il pancione, si nota, si nota, c'è troppo in basso che mia moglie è molto gelosa, io sono un marito molto felice, di nome, no sono contento e la cosa importante è esserci in queste occasioni e ritrovo sempre i cari amici che hanno voglia di fare delle belle cose come Gennaro Ezzo, come Mora, come tante persone e questo signoreccia che sta qua, che sta sempre in prima linea con Gennaro l'organizzatore, una bella vetrina, tante persone e tanta gente.